chiediamo un tetto per i nostri figli e il grido disperato dei nuclei familiari della palazzina crollata al civico 59 domenica 16 luglio tra vicopizza e corso umberto primo a torre del greco protesta questa mattina all'esterno di palazzo baronale abbiamo perso tutto nel crollo dicono ai microfoni di tv city per il comune la fase emergenziale è finita ieri abbiamo dovuto lasciare l'albergo ad oggi noi diciamo del palazzo sfollato chiediamo un tetto per i nostri figli perché siamo siamo in emergenza abitativa purtroppo siamo siamo senza un'abitazione la legge prevede un contributo di 2.500 euro per dissesso statico che poi diciamo questo contributo è passato a 3.000 e questa diciamo è la soluzione che ci ha ci ha proposto il comune di torre del greco abbiamo perso tutto e sono le difficoltà sono anche gli affitti gli affitti sono sono molto alti abbiamo trovato appartamenti a 700 800 euro al mese facendo già un calcolo sui 700 euro sarebbero due pigioni in deposito più uno corrente più uno all'agenzia siamo intorno ai 2.800 euro in più ci devi mettere un po di ristrutturazione ci devi rimettere mobili perché non abbiamo niente coperte lenzuola dalle cose più basilarie a finire alle cose più materiali importanti famiglie con bambini che da oltre due mesi vivono un disagio quotidiano con il contributo che ci viene offerto è impossibile affittare una nuova casa comprare i mobili e tutti i beni primari perché dobbiamo ripartire da zero noi chiediamo un detto per i nostri figli noi da ieri che ormai il comune se ne è lavato le mani ci ha abbandonato noi da ieri che siamo per strada e noi con i nostri consotti stanotte siamo dovuti dormire in macchina perché noi già abbiamo un detto i nostri figli li abbiamo dovuti dividere chi da una parte e chi dall'altra perché qua le nostre famiglie giustamente i nuclei qua sono grandi e non ci possono ospitare tutti noi chiediamo al comune una soluzione definitiva che ci dia non detto per i nostri figli che noi non ci abbiamo noi abbiamo perso tutto noi chiediamo al comune una una soluzione ben definita definitiva per i quattro nuclei cinque nuclei familiari che siamo del civico 59 che tuttora siamo per strada dopo tanti sacrifici che abbiamo fatto e facciamo per mantenere la famiglia per un detto che noi ci siamo costruiti con i nostri sacrifici siamo qua per strada buttati e facendo carità che noi non abbiamo mai fatto e giustamente io che sono padre di famiglia come anche loro per noi anche un po brutto da chiedere da fare